Per contenere la vita notturna, dove spesso si verificano situazioni di assembramento che sono estremamente pericolose, il DPCM prevede la possibilità dopo le ore 21 di chiudere strade o piazze nei centri urbani. Sul tema specifico abbiamo fugato le preoccupazioni comprensibili espresse dai sindaci, i quali temevano di non poter disporre di risorse di polizia adeguate a garantire l'efficacia dell'intervento di chiusura. Per questo è stata predisposta da parte del Ministro dell'Interno una direttiva indirizzata specificamente ai prefetti che assicura in accordo e in coordinamento con le autorità locali piena operatività a questa misura.